Musica Buonasera e bentornati all'appuntamento con l'informazione su Arezzo TV. In apertura una storia lieto fina, era infatti diventato un caso mediatico quello della cagnolina Emma che finalmente è stata ritrovata. Io non lo so, con i gesti, con lo sguardo ho provato a farmi perdonare di questa cosa e gli servirà sicuramente tempo e da parte mia sicuramente molta più cura, attenzione e sensibilità forse. Gianni ed Emma finalmente dopo 21 giorni di cessanti ricerche sono di nuovo insieme. La cagnolina di razza schnauzer era infatti stata smarrita tre settimane fa, era scappata all'improvviso spaventata da un forte rumore con ancora il guinzaglio rosso addosso. C'è stata una leggerezza mia sicuramente e mi ha sfilato proprio il guinzaglio dal polso. Non sono riuscita a prenderla e l'ho persa di vista dopo qualche centinaio di metri, è velocissima. Il caso della piccola cagnolina era diventato mediatico, si era infatti formato una sorta di passaparola sui social per cercare di riportare a casa Emma. C'è stato un tantamma impressionante di condivisioni e poi soprattutto delle persone che si sono attivate, hanno dedicato il loro tempo che è prezioso, lo sappiamo, non abbiamo mai tempo per noi. Invece la sera si sono mobilitati alla ricerca, hanno provato in tutti i modi a trovare delle tracce e in qualche modo a individuarla. Hanno fatto delle chat proprio dove condividevano quotidianamente tutte le varie riflessioni e soprattutto anche dei momenti in cui ritrovarsi per andare a cercare la cagnolina. In più è stato attivato anche un drone termico di ultima generazione sorvolando proprio la zona che era stata identificata e quello già ha dato dei piccoli risultati perché comunque la zona era proprio veramente quella. Adesso il lieto fine, Emma, è stata ritrovata al parco Pertini. Si è infigliata in una di queste panchine in questo parco e è stata potuta essere recuperata, insomma, e questa è stata veramente, non so, una vera fortuna. Una storia d'amore ma anche di speranza per tutti gli altri proprietari che stanno vivendo le stesse ore da prensione. Fondamentale per me è stata capire perché mi sono sentito tantissimo in colpa e ho capito anche attraverso i social che non era così raro che qualcuno potesse perdere il proprio cane, il proprio animale. E in questo senso a chi dovesse ricapitare mi auguro di no mai a nessuno, però ecco queste cose funzionano, veramente hanno, danno veramente tanto sostegno, possono essere veramente di tanto aiuto. 26 comuni al voto, tanti saranno i capoluoghi della provincia di Arezzo che dovranno rinnovare i consiglieri comunali ed indicare i prossimi sindaci. L'appuntamento elettorale è fissato per il prossimo 8 e 9 giugno e i vari candidati sindaco stanno così uscendo allo scoperto. A Subbiano torna in campo Ilario Maggini. Ilario Maggini lo vedremo di nuovo in campo a quanto pare? Sì, penso che l'8 o 9 giugno ci sarò. Non mi nascondo che faccio la lista civica, faccio una lista civica non politica perché io sono abituato a non mettermi a cuccia, come si dice, vicino ai partiti perché trovo l'opposto, trovo l'opposto a quella con l'altro, io me lo devo guadagnare nel campo. E prima ancora di parlare di programmi che sono in fase di stesura, Maggini ci tiene a precisare che quando era lui sindaco il comune era un comune virtuoso. Io 13 anni fa ho levato tutti i mutui del comune Subbiano, tutti l'azzerati, sono diventato il comune più virtuoso d'Italia, fra i comuni più virtuosi d'Italia. Ho lasciato tanti soldi in cassa, se io che sbaglio che ho fatto io sono quelli, allora lo rifarei, non sbaglio in quella maniera. Ecco, si torna in campo e ci si ripropone. Con quali obiettivi però? Io ho sempre sostenuto che mettendosi in campo me l'hanno chiesto, me l'hanno chiesto in tanti cittadini, noi si è fatto un gruppo di cittadini, sono 5-6 mesi che ci si trova e me l'hanno chiesto in tanti cittadini, intanto quel gruppo. La volta passata c'era oltre 60 insomma la riunione e tutte persone che dicono l'Ista decidi te, però dice noi tanto ti sostieni e questo è una cosa bellissima. Io ho sostenuto sempre che facendo del bene a Subbiano lo faccio del bene anche a me, perché io sono un cittadino di Subbiano, io mi ritengo un cittadino di Subbiano. Se io pago 50 euro di tasse in meno lo pagano anche i miei cittadini e questo se io mi sento ancora utile e i cittadini mi hanno detto che sono utili, io mi metto a disposizione i cittadini. I nuclei familiari con bambini e bambine residenti in Toscana con età fino a 3 anni con Ise fino a 35 mila euro. Queste le caratteristiche di chi può accedere a nidi gratis per cui la regione Toscana ha stanziato 40 milioni di euro. Tra le novità del prossimo anno la possibilità di scegliere liberamente tra nidi comunali e nidi privati accreditati. Nell'anno in corso sono stati quasi 13.500 bambini e bambini beneficiari della misura. Tutte le informazioni sono consultabili sul sito della regione Toscana. E adesso parliamo dell'ospedale San Donato, importanti novità in vista. Dopo i numerosi contatti abbiamo avuto in queste ore una proposta concreta per avviare una progettualità di complessiva ristrutturazione dell'ospedale. A dare l'annuncio sono stati infatti il sindaco di Arezzo Alessandro Ghinelli e la sua vice Lucia Tanti. Una novità che potrebbe imprimere una svolta nel futuro della struttura sanitaria che per la prima volta nella storia vedrebbe scendere in campo un soggetto privato pronto ad accollarsi il 47% della spesa necessaria, ossia circa 70 milioni dei 149 necessari. Quanto basta per rinviare i stati straordinari della sanità che erano previsti per il prossimo 26 marzo e chiedere un confronto con il presidente della regione Toscana per parlare di questa proposta. E c'è stato in città invece un nuovo appuntamento con la scuola di educazione civica. A salire in cattedra il presidente d'organizzatore della scuola dell'associazione presidente tra Tevere e Darno Stefano Tendi. Ecco un titolo interessante, l'Italia da Tangentopoli al governo Meloni che porterà nuovamente in questa lezione ai nostri ragazzi. Sì, continua la terza puntata che tenta di raccontare agli studenti del liceo scientifico, in questo caso stamani mattina, quello che è accaduto in Italia dalla fine della seconda guerra mondiale, appunto fino a oggi, fino al governo di Giorgia Meloni. È cambiata un'epoca, probabilmente ci sono stati più cambiamenti dal 1991-92 a oggi di quelli che c'erano stati dalla seconda guerra mondiale a Tangentopoli. È cambiato soprattutto l'atteggiamento degli italiani, a mio parere, l'atteggiamento degli italiani verso la cosa pubblica. Il disinteresse che c'è oggi, a memoria mia, ed è una memoria oramai lunga, non c'è mai stato. Ecco, c'è anche un cambiamento di chi si affaccia poi appunto alla politica. Lei sa, siamo in periodo elettorale, vediamo il nascere di tante liste civiche che prendono le distanze in maniera anche netta dai partiti. È un bene o è un male? Questo esula un po' dalla giornata di oggi. Allora, diciamo che quello che cercherò di fare, sperando di riuscirci, è non dare assolutamente un'impronta di parte alle cose che racconto. Ovviamente io ho la mia opinione, come spero l'abbiano tutti o quasi tutti, ma non deve assolutamente trasparire, perché lo sforzo è quello di raccontare ai ragazzi quello che accade nella politica perché influenza la loro vita e sperare che almeno alcuni di loro si appassionino alla politica. È un bene o è un male che le liste civiche si allontanino dai partiti? È un male? È un male. È una necessità, a mio parere, oggi assolutamente non eludibile, ma è un male perché il partito dovrebbe essere almeno niente altro che l'organizzazione di persone che di fronte ai problemi della società la pensano più o meno nella stessa maniera. e non seguire la Giorgia Meloni, Matteo Salvini, Eli Schlein o chi sia. Loro dovrebbero essere al servizio degli italiani, non i loro elettori al loro servizio. Da lunedì 18 marzo saranno disponibili nuovi biglietti dei treni del trasporto ferroviario Toscano, società del gruppo LFI con sede ad Arezzo ed operativa nelle linee ferroviarie Arezzo-Sinalunga e Stia-Arezzo. Gli obiettivi dei nuovi titoli di viaggio sono quello di abbattere il tasso di evasione a bordo del treno e raccogliere informazioni importanti per migliorare il servizio e la programmazione delle corse. I nuovi biglietti infatti riporteranno l'indicazione del giorno e la tratta sulla quale si vuole viaggiare potrà essere acquistato entro le 23.59 di quel giorno specifico. Non sarà previsto nessun aumento di tariffa. E adesso andiamo in Valdarno, un caffè sospeso per gli ospiti dell'RSA di Terra Nuova. Un'iniziativa appena partita grazie alla disponibilità dei gestori del bar. Si tratta di un modo attraverso cui offrire alle nonna e nonni accolti nell'RSA Don Amelio Vannelli, ha detto l'assessore al sociale Sala Grifoni, l'occasione per far uscire e fare una passeggiata in centro accompagnati da personale della struttura e da volontari. I clienti del bar possono lasciar pagato uno o più consumazioni di caffè, il gestore lo offrirà agli ospiti che si recheranno. L'intenzione è quella di condividere un piacere, un caffè pagato in anticipo, infatti da considerarsi un atto anonimo di generosità e solidarietà. Voltiamo adesso decisamente pagina, negli ultimi giorni infatti ha fatto discutere il video di una creator a retina, Aurora Punch, che si è sfilata a una perizoma di fronte ad una chiesa e per questo è stata anche denunciata. Vediamo. Stivali e minigonna di fronte a una chiesa, si sfila il perizoma e poi lo appende ad una ringhiera. Confesserò i miei peccati, si legge nella didascalia. Per questo video è diventato virale, Aurora Punch, content creator, è retina. Prima è finita al centro di una bufera mediatica e poi destinataria di una denuncia da parte del parroco. Dispiace per le persone che si sono sentite offese, ma la mia era una provocazione artistica, non volevo offendere assolutamente nessuno e ripeto, per me non ho offeso né i religiosi, né i credenti, né i sacramenti. Aurora, conosciuta sul web come Audi Prof, 25enne, star di OnlyFan, è popolare sui social per le sue pose ammiccanti e doppi sensi, contenuti divisivi tra chi l'apprezza e chi invece l'attaccia di volgarità. Con il mio corpo posso esprimere tante emozioni, mi piace tanto, poi mi alleno tanto, quindi mi piace anche mostrarmi un pochino. Tra i capi di imputazione dei quali dovrà adesso rispondere, offesa ad una confessione religiosa mediante vilipendio di persone, atti osceni e pubblicazione e spettacoli osceni. Ho due legali che mi stanno dietro a questa faccenda, perché comunque voglio tutelare la mia persona e la mia immagine, come giusto che sia. Un video senza dubbio provocatorio, ma anche una mossa di marketing, che le ha portato oltre 300 nuovi iscritti al suo canale. Che per 18 comunque fanno abbastanza guadagno, ecco. Nonostante il clamore mediatico, l'influenza non intende fare passi indietro. Le mie sono ironie, ecco, sono video totalmente ironici, non offendono assolutamente nessuno e continuerò sicuramente a farli e rispecchiano la mia personalità. E a proposito di video che hanno creato scalpore, anche quello della Via Regina, ma retina d'adozione, Giulia Nati non è da meno. La 32enne ha sposato un aretino, Cristian Bruschi, ed è titolare di due aziende da una milione di follower su Instagram. A far parlare è stato un video con alle flebo attaccate a borse di lusso. A me fa comodo, ha fermato l'influencer dalle colonne della Nazione di Arezzo, perché grazie ai social sono quello che sono. E sarà invece Giuliano Amato a presenziare all'intitolazione della Sala Conferenze Palomar Casa della Cultura di San Giovanni Valdarno a David Maria Sassoli in programma per sabato 6 aprile alle 17.30. La Sala Grande della Casa della Cultura sarà dunque intitolata al Presidente del Parlamento Europeo dal 2019 sino al giorno della sua morte, avvenuta l'11 gennaio del 2022. Giornalista, conduttore televisivo e membro del Parlamento Europeo ha giocato un ruolo di primo piano nel formulare l'idea di un'Europa della solidarietà in grado di promuovere politiche forti, ben oltre l'unione monetaria. E adesso andiamo a Castiglion Fiorentino. Ieri la presentazione dell'ultimo giallo scritto da Paolo Brandi, La linea del sangue. Un giallo, quindi una nuova prova come scrittore di Paolo Brandi. Beh sì, è la linea del sangue, è la nuova avventura di Niccolò Lavezzi, l'investigatore che è nato dalla mia fantasia e che è arrivato appunto alla terza investigazione dopo la Casa Rossa e il club degli atleti. Questa volta devo dire una cosa leggermente diversa rispetto al passato perché prima Lavezzi era un investigatore di provincia che lavorava appunto in una piccola cittadina della Toscana peraltro e oggi invece è impegnato in una indagine particolarmente difficile in una grande città. Quindi un sequel, la trama non gliela chiediamo, comunque sia è un qualcosa che prosegue questo suo impegno. Perché la scrittura e perché i gialli soprattutto? I gialli mi hanno sempre affascinato, dico la verità, fin da piccolo, fin da giovane. Quando uscivano, non so se qualcuno se lo ricorda, i gialli con la copertina gialla della Mondadori per cui era una cosa anche carina da vedere. No, è un po' un sequel perché poi butto in questi romanzi un po' anche delle, non dico delle mie avventure ma delle cose che sento in giro nei paesi per cui diventano anche un modo per ricordare un pezzo della nostra storia. Dove si troverà questo libro nelle prossime ore? Si troverà in tutte le librerie oppure online sui siti specializzati. Ancora in Valdichiana a Cortone una serata di grandi emozioni con Cortone e le sue stelle. Una festa con cui l'amministrazione comunale ha voluto omaggiare gli sportivi che si sono distinti negli ultimi anni. Alla serata hanno partecipato ospiti speciali come la tennista Roberta Vinci, il campione olimpico del nuoto Massimiliano Rosolino, presente anche Michele Santucci, nuotatore cortonese, protagonista alle Olimpiadi assieme ad un'altra nuotatrice di belle speranze, Di Sangiolini, che ha da poco guadagnato il pass per i giochi di Parigi. Premi poi alle stelle cortonesi, sportivi che si sono distinti nelle loro discipline nel corso del 2023 ed infine un omaggio anche all'associazione di volontariato che garantiscono lo svolgimento alle manifestazioni sportive ed una speciale menzione per i gestori delle strutture sportive locali. E adesso il calcio, il calcio giocato, è obiettivo riscatto per l'arrezzo calcio femminile dopo il capò contro la Ternana. Domani le amaranti scena in casa della San Marino a crederci l'allenatrice. Io conosco diverse ragazze da tanto tempo, altre un po' meno perché comunque ad agosto sono stata solo 15 giorni con loro e io sono contentissima di questa sfida perché le sfide secondo me sono importanti ed è bello anche vincerle. Poi una cosa, lei ha già vinto, mi sembra in passato, un campionato primavera, mi sembra così, insomma, da quanto mi ricordo. Si è abituata anche a vincere? Sì, è stata un'annata splendida l'anno scorso con le ragazze della primavera ma anche quest'anno dove l'anno scorso abbiamo avuto la promozione dal campionato di primavera 2 al campionato di primavera 1 e niente, quindi come ripeto sono contentissima di far parte di questa nuova avventura per provare a portare più punti possibili a casa. Senta, la Serie B è un'altra cosa, però lei avrà osservato le squadre che andiamo a affrontare di volta in volta e a parte ora la Ternana che è la prima classifica, insomma, sembrava troppo esagerato. Sì, allora io sono arrivata venerdì, quindi abbiamo cercato di fare il meglio possibile per la partita contro la Ternana e ho cercato di dare un input e quell'input è stato rispettato. Sapevamo che era una partita difficile perché comunque era la prima della classe, però abbiamo dato tutti il massimo e le abbiamo anche dato filo da torcere. Ora la Serie B è tosta e difficile perché è un campionato impegnativo, perché la categoria è sotto la Serie A, poi dopo c'è la Serie A che è la massima serie, ma noi cercheremo di fare, come ripeto, più punti possibili per cercare di portare a casa la vittoria e soprattutto la salvezza in primis. E come ultima battuta le posso dire una cosa, piano piano, visto che lei conosce molto bene anche le giovani della primavera, così qualche innesto considerando che lei ora a questo punto può capire se sono all'altezza di fare dieci minuti, eccetera. Sì, ho già portato qualche ragazza questa settimana perché secondo me se lo meritano, perché comunque hanno già una impostazione tattica giusta, ma anche tecnicamente sono molto valide e quindi può essere, secondo me, un bel mix che può aggiovare la società. Adesso in La Basket, domani il Palasport Estra ospita la sfida tra MBC Servizi Arezzo ed S Solar Gallarate. I Amaranto al cospetto di una squadra costretta alla play-in Silver solo per la differenza Canessri. La MBC Servizi Arezzo torna al Palasport Estra domenica 17 marzo alle 18 per affrontare l'S Solar Gallarate, formazione che ha chiuso al quinto posto la prima fase del girone A di Serie B che si è vista esclusa dal girone delle più forti nella seconda fase solamente per differenza Canessri. I Lombardi, a differenza Lidertona e Borgo Manero, sono una formazione molto esperta per la categoria, con tre giocatori che hanno viaggiato in questa stagione ad oltre dieci punti realizzati e due interni molto fisici. Coach Mazzetti, che a dicembre ha sostituito alla guida di Gallarate e Gambaro, può contare anche su Indalgo, in nesso di gennaio la cui presenza ha permesso a Gallarate un record positivo dal suo arrivo, sei vinte e due perse. La difesa della squadra di coach evangelisti sarà chiamata agli straordinari per cercare di limitare gli avversari. Proprio su questo aspetto si giocheranno le possibilità di vittoria della Sbac che dovrà giocare con grande determinazione per riuscire a mettere in difficoltà un avversario costruito per ambire alle parti alte della classifica. L'appuntamento per i sostenitori a Maranto è sulle gradinate del Palasport Estra domenica alle 18, quando gli arbitri alzeranno la palla 2 della sfida tra MBC Servizi e S Solar Gallarate. Questa per stasera era l'ultima notizia, vi ringrazio per l'attenzione, arrivederci.